Che cosa è quel capanello? Quella gente cosa fa? È successo un bel macello, accidenti che sarà? Suona la sirena, suona la sirena, suona la sirena, suona la sirena. C'è un motore che si imballa, una moto se ne va, schizza via come una palla, accidenti che sarà? È un allenatore? No, no. È un prestigiatore? No, no. È un presentatore? No, no. È un imbrogliatore? No. Ma allora chi è? È Leonetti. Sei nato? Quando? Domenica. È un leone che è scappato. Dove in America? È un leone che è scappato. Dove in America? Non c'è verso di acchiapparlo, è veloce più che mai. Non ci resta che inseguirlo, forse lo prendiamo noi. Suona la sirena, suona la sirena, suona la sirena, suona la sirena. Si sarà mimetizzato con la tuta dei parà e si sposta come il vento superando le città. Fa il sonnotatore? No, no. Fa l'esploratore? No, no. Fa il commendatore? No, no. Fa il pasticciatore? No. Ma allora che fa? Fa il leone che è scappato. Quando? Domenica. Fa il leone che è scappato. Dove in America? Fa il leone che è scappato. Dove in America? La 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 Fisa armonica, quando domenica fa una vita, prelenta, dove in America? Suona la Fisa armonica, quando domenica fa una vita, prelenta, dove in America? Suona la Fisa armonica, quando domenica fa una vita, prelenta, dove in America?